Musica 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 Buona ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Con questa nuova serie Su questo grandissimo giocone Che è l'ombra di Mordor E il gioco ambientato Nel signore degli anelli E l'ho comprato Non avrei mai pensato di portarlo nel canale Però l'ho comprato su Kinguin A 10 euro invece che 50 Quindi se questo gioco vi piace e vi interessa Andatelo a comprare perché c'è un grande risparmio E E ho deciso di quindi Portare questa serie sul mio canale Questo gioco l'ho conosciuto grazie a CiccioGamer89 Che ha fatto la serie Io l'avevo guardata addirittura tutta però Per fortuna Non Non me le ricordo le cose Passiamo un po' un attimo l'audio Mi sudano le mani Perché non viene fuori Ok Ok allora io non ho ancora fatto niente Nel senso che non ho Proprio Toccato nulla Non l'ho ancora giocato Allora le impostazioni video sono sul medio Qualcosa è alto Perché non vorrei che Col fatto che registro Non riesca il mio computer Ad andare fluido Ecco se Noto che sarà tutto fluido Magari nel prossimo episodio Aumenterò la qualità grafica Allora qua come vedete Oddio cosa abbiamo qua Prove di guerra Uccidere i capitani Comandati In questa sfida aperta Ok qua Queste qua sono sfide Vabbè Queste qua non c'entra niente Queste qua sono i due DLC Che magari vedremo più o meno Se comprarli Ma non andremo direttamente Alla modalità storia Inizia la storia di terra di mezzo Ombra di Mordor Allora piccola interruzione Volevo semplicemente avvertirvi Del fatto che Se ci sono delle scene tagliate Che possono sembrare un po' a caso Non lo sono Semplicemente In quello spazio di tempo Voleva dire che C'era un video Un filmato Che non andava bene Nel senso che Youtube me l'avrebbe segnalato E quindi ho preferito Staccarlo Levarlo Per non avere Dei problemi Di copyright Quindi niente Vi lascio al video Ciao Ok ora siamo Nella modalità tipo Ok Ok Non posso prendere Stai zitti No l'ho ucciso Mentre parlava Ma quello lì Non sospetto Cioè io ammazzo Il suo compagno Così smette di parlare a caso E vabbè Cosa Ah Oddio Che figo Madonna Che stile che c'ha Ma 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 Minchia Minchia Ah Sì Certo Certo E' la madonna Ah Ah Che male Eccolo qua L'elfo Sì però adesso Non è per dire Però Delle cutscene Così lunghe Davvero Eh Qualcosa di esagerato Però Sono belle Quindi Ci può stare Ordo Ora mi credi Cosa mi è successo Sei morto in realtà La morte Ti ha esiliato Abbandonato tra i punti Della luce E del buio La maledizione Ci ha risciuto Alla dura di Arda Se ciò che dici È vero Come si spezza La maledizione Trovando Colui Che ci ha maledetti La mano Era di San Ok Ok E adesso Si dovrebbe iniziare A sto punto Perché Eh Cioè vorrei dire No Ho tutto Sto inizio Cioè Ragazzi Voi non sapete Che cazzo Mi sono ciucciato Per Tipo Dieci minuti Un quarto d'ora Però adesso Abbiamo l'inizio Finalmente E va bene Dai Non penso L'avevo fatto vedere Perché Effettivamente Era davvero Un qualcosa Di lungo E non vorrei Che mi Non vorrei Che ci sia un po' Di problemi Più avanti Con Con Copyright O che ne so Ok 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 Dovremmo esserci Allora Ora stiamo forgiando un qualcosa Allora Viaggio rapido Sbloccata Ok Sbloccare le torri Sbloccare le torri della fucina Sbloccare ricordi dello spettro Spazio Questo sblocca una missione Oggetti della collezione Nella mappa E Miriam Che non ho ancora capito Che cazzo è Miriam Ok perfetto Ah ok Quindi battere così Serve battere Vabbè Ah Ti è venuto spazio Dopo per saltare Dalla sporgenza Opla È tipo un assassin creed Per chi non lo sapesse Nel senso che Che brutto che sei Madonna mia Dove è orribile Ah che figo Abbiamo l'arco È vero Abbiamo anche l'arco Allora Tieni premuto A distanza Ah Tieni premuto Sorry Pam Pam Oddio Che sensibilità Da manetta Proprio Vieni Vieni Madonna Io ho lanciato Una Una Freccia in testa Buon dio Oh E lasciami stare Su Ok dai Dai Oddio Dai Oh Ok Ah c'è lo stordimento Spettrale Ora vediamo cos'è Sto stordimento Spettrale Ah ok Ah ma è morto Eh ma io non lo so Ma Che figo Cos'è 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 Cosa fa Che è successo È morto Ah ok Ah che bello Rega Non sapete Non avete idea di quanto Trovi figo sto gioco Veramente Ecco Appena pugni Vai Cartel Bravo Bravissimo Talion Bravo Così mi piaci Chi Pensa a lui chi Cosa dice Vabbè E comunque Io non ho ancora capito Come Zuduna Ah è vero Adesso si può interrogare È vero Questo me lo ricordo Tiene per afferrare No no Non lo devi lanciare Aspetta Ah già lo devo tenere Premuto Io lo continuo a lanciare E premiamo spazio Ok è vero Così si interroga È vero Me lo ricordo Ed era una cosa Fighissima Tra l'altro Stronzo Aggiungerei Che figata Regà Ah già Perché lui deve essere Tipo un capitano Tipo Qualcosa del genere Ah Interessante Ecco vedete Questi qua sono i capitani Delle esalti dei sanno Sono ombre Perché non ne conosce Ancora l'identità Spazio per continuare Se interroga nemici Questa cosa mi piaceva Un sacco Quando l'avevo vista Davvero Se interroga nemici Puoi scoprire informazioni Importanti riguardo Questi capitani Premi spazio Per venire a conoscenza Dell'identità Di questo capitano Madò Che figo Gmub Lo schiavista Non mi ricordo Se era più annunciato Così ma va Se è venuto a conoscenza L'identità Questa aiuterà Dagli la caccia C'è il suo titolo Lo schiavista Ti dà un'idea Del suo ruolo Nella società Di Uruk Ok perfetto Capitano Meterno Potere 5 Blablabla Questa è Quanto sarà difficile Sconfiggio Quindi dovrebbe essere Una sega La classificazione Di potere Determina anche Le ricompense Che riceverai Se lo sconfiggio Le ricompense Comprendono rune Per migliorare Le tue armi E più poteri Per sbloccare Nuove abilità Ok Ora c'è la mappa Ed è qua Ok Questo capitano Quindi si trova qua Perfetto Ma dobbiamo già Marchiarlo Dobbiamo già andare Direttamente da lui Perfetto Perfetto Non lo ammazza Strano Strano Di solito Lo ammazzano Con l'interroga E andiamo lì Dai Hai capito Talion Che figa Guardate Matonna Però mi sa che si La qualità Dovrà un po' aumentarla Giusto qualche ritocchino Tutorial missione Le icone d'oro Fanno progredire La storia Le icone rosse Usano in zone Le lotte Per il potere In cui Iurok Lottano Per il prestigio Perfetto Le icone bianche Rappresentano Missione secondaria Oggetti della collezione Ricompensa Miriam Per acquisire Potenzialmente Ok Hai due missioni Principali disponibili Lo schiavista Salva gli umani Intrappolati a Mordore Trova i capitani neri Lo spirito di Mordore Scopre di più Sulla società Uruk E fai crollare L'esercito di Sauron All'interno Però quella lì Penso sia una cosa Mi obbedirai Ok Abbiamo sbloccato Un nuovo obiettivo Però io regà Devo Sì hai ragione Ah con spazio Ok Ah qua abbiamo Una pianta Cos'è che va Ah per ripristinare La salute Ok Ok Quindi adesso Dobbiamo andare Dallo schiavista Quanto ho capito Perfetto Ora possiamo Correre pure qua E fare questa benedetta Ah no Aspetta c'è qualcuno Sopra Aspettate che lo vado Un attimo a prendere Perché Vabbè dai Ok Ah aspettate un attimo Che ho visto Che Ecco Abbiamo sbloccabilità In bio Ok Qua abbiamo le abilità Accumula XP Per ottenere Punti abilità E sbloccare Nuove potenti abilità Gioca le lotte Per il potere Per guadagnare potere Più velocemente E sbloccare I livelli di abilità Ma mi sa che non la posso utilizzare Se vabbè Io quasi quasi Vado direttamente Sul sicuro E prendiamo questa Che è l'esecuzione Che in pratica Una volta caricata La tua serie di colpi Premi F Per giustizia L'obiettivo Ogni 8 colpi consecutivi Il contatore Diventa la rossa La tua spada brillerà Perfetto Allora Andiamo pure qua A fare questa mission Oddio 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 Quanta gente che c'è lì Allora Lo schiavista Uno schiavista Uno che è un prigioniero Con delle informazioni Si capite di neri Lo schiavista E lì Uno schiavista Libera il prigioniero E scopri cosa sa Perfetto Oddio No Orca miseria Orca miseria Ma picchiali Ma se io li volessi uccid- Sparito Oddio Un ratto Ok Ora mi farò utilizzare Quindi Allora Usa il mondo spettrale Figo Ah Madonna Che figata Recidi la testa del serpente E il suo corpo si spegnerà Ok Arcele Devo accecare l'accampamento Allora Dobbiamo eliminare gli arcieri Perfetto Ale Ok E uno è andato Tanto qua abbiamo le frecce Che si possono Non si possono prendere Ok E il secondo E' andato Però dove sono gli altri arcieri Io non li vedo Non lo so Ah qua c'è il nostro obiettivo No Maledetto Ah ok Figo è vero Qua c'è la scena Esatto Dove presenta Diciamo Maledetto Vai Madonna Ammazzo tutti Ah Bam Bam Ah no Ma non era lui Porca miseria Ho sbagliato Oddio Oddio Ho ucciso uno Oddio Ho ucciso uno a caso Che non c'entrava niente Vabbè Madonna mia Sto a fare una strage Bam Bam Mamma mia Vi giuro Sto troppo concentrato Però E' Fighissimo Apparei che sono Stra resistente Questa cosa mi piace Perché almeno Non vanno giù subito E resistono un po' Aspetta E sei l'ultimo Ah Morto Ok L'abbiamo ucciso Ora Rapporto battaglia Cos'è Cos'è il rapporto battaglia Ah ok Ci fa vedere quindi Che lui muore Morto Cade così Ok Infatti i capitani Vengono ucciditi Si liberano un posto N'esercito di Sauron Dopo un certo tempo Questo può essere Occupato da noi I capitani Giustamente Lui chi è Ratbag No Me lo ricordo Me lo ricordo Me lo ricordo Lui Sarà Un punto Diciamo Cruciale Cos'è questo Si può prendere qua No Ok Quindi abbiamo fatto Questa missione Adesso io volevo uccidere Quello la ma Scappando troppo In fretta Ok Io non avevo capito Che bisogna raccogliere La runa qua Però Ah Non l'avevo letto Madonna Che stupido Che sono Ok Voci val Malvagia Recupera pieno Concessazione Salute Quando si uccide Un capitano Un comandante Il capitano Dei mancano Delle rune Che forniscano Vari buoni Spurre le tue armi Ok Quindi questa qua È per la mia arma Puoi inserire le rune Nelle armi Seleziona le armi Come uno due Spazio per arrivare La tua luna Ok Equipaggio le rune In uno slot runa Disponibile con spazio Puoi potenziare Le tue armi Con uno slot runa Aggiuntivi Spendendo M Che non mi ricordo cos'è Spazio per continuare Ok Ah ok Queste qua sono Ok ok Capito Il potere di un capitano Termina il livello Della runa Che lascia cadere Se uccidi un capitano Sfruttando la sua vulnerabilità Puoi garantirti il tipo di runa Che rilascerà Furtività Pugnale A distanza arco Combattimento Spada Non ho capito Però va bene Ok quindi Possiamo anche fare così E va bene Ma con quale occhi Stai guardando? Siete liberi Che cazzo Che cazzo Che cazzo Ti avvicini Così Oh E chi sei tu? Scusate Sono un po' di tosse Ma che cazzo Scusate Che figo Che figo allora Forse No forse non Ok Va bene Va bene Dai va bene Però calma Ti taglio Non ti arrabbiare Guardalo Guardalo Smigol Guardalo Ma che bello Ma bellissimo È proprio bello Ok ci sto Soc Ok Lo schiavista Successo Missione completata Più 600 punti Exp Ok ragazzi Per questo primo episodio Dell'ombra di mordore È tutto Io spero che questo Video vi sia piaciuto Spero che questa serie Vi possa interessare Perché è un gran giocone Quindi Vi consiglio Se vi piace Andarlo a spendere Andarlo a spendere Quei 10 euro Per questo gioco Perché è davvero Un gran titolo Che merita tanto Quindi ragazzi Per questo video è tutto Io spero che vi sia piaciuto Se si lasciate un bel like Iscrivetevi Commentate E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao